Sono Flavio Micheletto, sono General Manager della Data Display Italia, succursale del gruppo Data Display, una multinazionale presente in vari paesi del mondo, che esiste da più di 30 anni, azienda pioniera per quanto riguarda il mondo dei DFT e dei prodotti specifici nel mondo DFT. La Data Display Italia ha aperto la filiale la fine dell'anno scorso, il 4 settembre, abbiamo già partecipato alla fiera Visco per parte dei nostri prodotti dedicati al mondo del digital signage, in particolar modo i display, monitors finiti e in questa occasione ci presentiamo al mondo industriale con l'altra parte, components, l'altra divisione dell'azienda che sono gli embedded e i DFT kits. è presente, come dicevo, in tutto il mondo e sostanzialmente si occupa di due divisioni, come components facciamo progettazione di schede video, schede multimediali, tutte fatte in casa, a Garmari oppure in Turchia per quanto riguarda il software e le utilizziamo sempre per la nostra produzione di monitor che vengono prodotti sempre in Germania, a Eisenach, con fabbrica, con la nostra fabbrica, oppure abbiamo la produzione di display customizzati ad altissima luminosità sullo stabilimento a Polo, a Rompomoma, a New York, che era l'ex centro Comtrex. Abbiamo una rete di vendita mondiale, l'azienda è centralizzata come logistica a Kermaring. L'apertura delle filiali italiane è stata fatta perché il mercato italiano per quanto riguarda i nostri cugini tedeschi è visto come un mercato, ciò nonostante la situazione temporale e economica che conosciamo tutti, è visto comunque un ottimo mercato è abbastanza equivalente alle tipologie del mercato tedesco, come sinergia di componenti. Conseguentemente con questa fiera, appunto con l'Embed, ci presentiamo la nostra gamma di prodotti, anche di questo settore, al mondo dell'Embed. I prodotti più interessanti da utilizzare, diciamo appunto, sono le nostre schede video e le schede multiplayer, nonché è il concetto di customizzazione completa, cioè il fatto di avere delle camere bianche, l'assemblaggio di kit completi, display, TFT, touch, touch panel, resistivi, capacitivi, infrared, multitouch e tutte le soluzioni customizzate possibili, compresi il supporto hardware, software e l'adattamento del firmware per qualsiasi tipo di display, che è proprio l'argomento specifico a cui si rivolge questo tipo di esibizione.